Scatman's World Fraps mi dà problema, però ho visto che senza Fraps Magari, perché ragazzi Un emulatore mi crash a poco Con programma di registrazione Crash al secondo Allora vediamo un attimo Vi faccio vedere i gol magari Allora Giamaica Belgio Perché l'ho rifatta mille volte Purtroppo Vai Facciamo vedere a questo punto I gol così, mi dispiace Adesso vediamo, se no devo fare partite Diciamo al posto di mondiali impossibili Partite impossibili, guardate che gol BOOM! Palo E la piazza Il come la piazza Cioè guardate il tiro al volo Palo, parata E si va a vincere col Belgio Ok E dopo ragazzi Con la Danimarca Un gol Devastante ragazzi Purtroppo E' stato bello E' stato bello Vedere in diretta Eccolo qua ragazzi Cioè guardate che roba BOOM! Un missile Terra aria Finalmente Il portiere Non la vede neanche partire E si gode Guardate che roba BOOM! BOOM! E andiamo a vincere Siamo ai quarti Di finale Ragazzi Vediamo se va adesso Speriamo la Francia E l'Italia Ok Siamo già Maica Camero Che culo Brasile-Argentina Bello Speriamo Se non dobbiamo fare Partite singole Partite impossibile Il posto di mondiale Impossibile Preghiamo raga Preghiamo Tutti insieme Vai Vai ragazzi Si può usare Action Al posto di Fraps E valutiamo il tutto Siamo ai quarti Ragazzi Contro una squadra Che si può battere Fortunati nel girone Ma il gol che ho fatto Tutto è 1-0 Comunque Attenzione Mamma mia Subito Un kuma in grande Spolvero Quello di quest'oggi Purtroppo Quegli emulatori E così Cioè Purtroppo Questo gioco qua Il crash Detro l'angolo Dai Fiori Giamaica 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 Del cazzo Vai Attenzione Devo tirare subito Se no me la rubano Però ho fatto un tiro Una ciofeca Perché qua ragazzi Mirare è fondamentale Fare il tiro di effetto Tiri di merda Però eh Tiri veramente Mentre a cioccolataio Obeso Semi Final match La 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 Attenzione Azione sublime Giamaicana Noi siamo Quelli sublime Attenzione Ancora il giamaicano Missile Non ci credo Ho preso una traversa Scandalosamente Scandalosa Attenzione Di testa Bam E sigliamo Il gol Non salvare E andiamo Mamma mia Che gollazzo Che gollazzo Proprio Devastante Prima attraversa No Eh ragazzi Qua stiamo andando Impossibili Rischiamo di vincere Al primo colpo Si che ho messo Il livello massimo Cazzo Sono una bestia No Ecco Stai zitto Mamma mia Che culo Per poco Me la siglava Sono Road to World Cup È bello Però C'è chiaro Che Bisogna capire Quanto il gioco È stabile Perché se non è stabile Cioè Non posso Per una partita A metterci vent'anni Ancora Ma dov'è il fallo Ragazzi Dai Per cortesia La la Allora Non ha preso La munizione E fa il figo Allora Però il gol Perché non è arrivato In diretta Vaffanculo Cioè io stavo Anche registrando Ma dopo No anzi no Che chiaramente no Quella non l'ho registrata Cioè La stavo registrando Ma quella prima Che Avevo vinto Avevo vinto sempre 1-0 Nel golden goal È più bello In diretta C'è anche Espulsione Per il camero No Ho sbrato tasto Pirlone Dai però Cioccolataio Attenzione Il tipico cioccolataio Giameicano Tacco Mamma mia Che sublime Questa giameica E non ci crede Però ragazzi Siamo Siamo professionisti Non ci interessa Se fanno un ultimate team Questo gioco Spacco fuori tutti Spacco Ragazzi Scaricate anche voi Il tutto Così Se trovate delle configurazioni Migliori per avere Meno crash Allora Dovete andare Dovete scrivere Su google Dolphin Trovate la versione Ultima che è la 4 Punto Vaffanculo Dopo andate Sul sito Quello delle ISO Quello famoso E scrivete Virtual Striker 3 Versione 2002 La trovate 700 MB Mi sembra E dopo Basta solo Cazzare E fare Quando sul programma Dolphin Fai apri Prendi Clicchi sulla ISO E parte La sola La cazzata Le una Cazzata Un buon Primo tempo Abbiamo anche La superiorità Numerica Abbiamo tutto Per poter fare Per arrivare In semifinale Oggi Chiaramente Facciamo solo Una partita Buono Attenzione Ma questi Camerunesi Sono veramente Drogati Però Altro Rosso È tutto Nelle nostre mani Ragazzi Merda 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 Buono No Niente Da fare Mi andava Penso nel missile Eh Questo è un tiro Abbastanza Di merda Un tiro Non propriamente Positivo Dai Comendissimo Oh Porco Ah Stop Terza espulsione Ragazzi Il Camerun È impazzito Cameron Impazzito Quest'oggi Sto tentando Di tiri Abbastanza Impensabile Bisogna dire Che ho messo La grafica Tutta al massimo E quindi È chiaro Che è ancora Peggio Perché è veramente Incredibile Vedere i 19-20 E i 1080 Un gioco Cioè ragazzi Veramente ha fatto Un miracolo Però è chiaro Che io volevo Portare anche Le stagioni Di F1 Challenge Che le ho Tutte le mod Con tutte le mod Agli anni 50 Fino ad oggi Però Fiore laga Come un disperato Quel gioco Purtroppo Very good Very good È morto Uno del Cameron Intanto No Sbaglia tasto Il Kummer Incoglionitus Il Cameron Non ci ha dato Molto fastidio E comunque Più difficoltà Guarda Di Margas Un 1-0 Tirato Mentre col Belgio Altro 1-0 Tanti 1-0 Bisogna capire Con le big Perché adesso Se passiamo Attenzione Il portiere Fa la cappella Sono le tipiche Capelle Di Virtua Striker Mamma mia Mamma mia Madonna Sto gioco Sarà arcade Sarà pazzo Ma mi gasa Cioè Non c'è niente da fare Sto gioco Ti gasa Mamma mia Ehi Tiri qua Poi la palla Secondo me Ha una fisica Devastante Bellissima da vedere Proprio Stupenda Ha delle chicche Sto gioco C'è poco da fare È l'arcade Più bello del mondo Appunto C'è poco da fare Ci sono arcade E arcade La siga Su queste cose È il top Non c'è niente da fare Ma puttana Fantastic Come fantastic No Attenzione L'injury time E ciao E andiamo a chiuderla Il cumela Va a chiudere 2 a 0 Bye bye Carol Come giochiamo bene Ragazzi Che giamaica In semifinale Attenzione Ok raga Sotto dal cumedone Con action È andato un po' meglio Fai meno male Ragazzi Ciao 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 Ciao